Arriva a giugno la fiera degli acciugai a Dronero. L'anteprima della fiera arriva proprio da Mauro Arnaudo, vice sindaco presso il comune di Dronero. Benvenuto. Benvenuti a voi, grazie per la possibilità. Eccoci da un'anteprima della fiera degli acciugai. Quest'anno dopo due anni forzati a causa della pandemia riprende questo evento che avviene sempre la prima domenica, il primo weekend di giugno. Quindi quest'anno sarà il 4-5 giugno. Dronero si riempirà di bancarelle, di colori, di tradizioni per la fiera degli acciugai. Qual è la novità quest'anno? Ma allora, quest'anno noi come amministrazione abbiamo dato la gestione della fiera alla fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Quindi sarà una fiera tutto sommato simile a quelle delle passate stagioni, delle passate edizioni, con l'acciuga protagonista. Ci saranno degli eventi. La fiera inizierà il venerdì sera. Ci sarà in piazza Martiri della Libertà il Gran Ballo Cittano con i Ludalpin, che apriranno praticamente la fiera. Il sabato sera, sempre sulla piazza, ci sarà lo spettacolo di Dario Vergassola, un comico di La Spezia, che verrà a presentarci anche i suoi libri e farà una parte di intrattenimento comico come lui è capace a fare. Quindi questi sono i due eventi. La domenica, durante la fiera degli acciugai, ci sarà un concerto citano generante e stiamo ancora incalenderizzando per la domenica sera o prima o dopo cena, un coro citano che arriva dalla Francia, che sarà una sorpresa dell'ultimo minuto, che viene anche inserito all'interno del percorso della fiera degli acciugai. E noi ringraziamo Mauro Arnaudo, vice sindaco presso il comune di Dronero. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.